E rieccoci nuovamente insieme, ospiti quest'oggi di Autostandard, ospiti di Francis Sassone, perché con lui parleremo di grande risparmio, di grandi affari e soprattutto di chilometro zero. Buongiorno Sonia, buongiorno amici di Autostandard, anche oggi 45 anni di attività Autostandard, grandi proposte ma soprattutto le abbiamo qua per voi. E ce n'è davvero per tutti i gusti, non c'è che l'imbarazzo della scelta, un autunno ricco di proposte interessanti. Sì, vero, soprattutto il bonus permuta che vi spiegherò fra poco. Amici di Autostandard, il bonus permuta è un bonus per voi, per le vostre permute, in un momento dove il mercato delle vendite chiede l'usato recente che non abbia più di 5 anni di vita, che non abbia più di 100.000 km e che abbia la manutenzione dimostrabile. Per ogni vettura che voi permuterete avrete fino a 1.500 euro di extra premio sulla vostra valutazione. Un esempio semplice, se la vostra auto vale sul mercato 10.000 euro, in Autostandard acquistando una chilometri zero in promozione potrete arrivare fino a 11.500 euro. Provate a vedere, contattateci, avete il nostro numero di cellulare. 500X benzina 120 cavalli, una validissima alternativa a una vettura nuova. E questa non ha mai circolato, non gli abbiamo neanche messo la targa. Si risparmiano fino a 5.000 euro dal prezzo di listino. Una Renegade, l'auto più venduta, le abbiamo di tutti i colori. Longitude Limited, con navigatore, con pacchetto LED, le vedrete tutte sul nostro sito. 500, la più amata, in questo caso ibrida. Lo sapete che la 500 ha anche la sesta marcia, che quando volete fare il fine settimana vi mettete in autostrada, la viaggia come un'ammiraglia. Si risparmia anche qui fino a 5.000 euro dal prezzo di listino, lo vedete sul nostro sito. Le Panda GPL introvabili, con l'aumento della benzina, qual è la soluzione migliore se non una bella automobile, ben collaudata, comoda, spaziosa, si parcheggia facilmente e consuma pochissimo e non paga al bollo. Anche qualcosa di più confortevole, con le tipo benzina 100 cavalli. Le abbiamo sia allestimento City Life, comunque ricche di accessori, e poi fra poco vi faccio vedere anche la Cross un po' più alta. Da auto standard, 45 anni che si vendono fuoristrada, perché no le Jeep Compass? Questo è l'ultimo modello, benzina 1.3, cambio manuale a 6 marce, scoprite il prezzo perché è un prezzo pazzo e soprattutto ce l'abbiamo subito. Auto in promozione, anche la Tipo Cross, 100 cavalli benzina, guardate che bella, un po' più alta da terra, ottima per fare il fine settimana, anche in campagna, con un bagagliaio enorme, la potete acquistare a 17.900 euro in promozione e se avete una permuta che ha meno di 5 anni e meno di 100.000 chilometri, chiedeteci il bonus ritiro permuta. Non vi ho detto che siamo nei piazzali di Auto Standard, dove ci sono i nostri depositi, dove teniamo le vetture che non abbiamo al coperto, ma venite comunque a trovarci a vedere le piccoline, a volte anche con occasioni come questa aziendale, dove si risparmia fino a 6.000 euro dal prezzo di listino, soprattutto con GPL, che è un'auto introvabile, le Panda, le 500, le Renegade, sono tutte qua per voi in pronta consegna. Ma quante Renegade ci sono da Auto Standard in Corso Trieste 136? Benzina, vario pinte, bianche, rosse, metallizzate, la versione 1.3, 4 cilindri con 150 cavalli, con il cambio automatico, l'ideale per un SUV. Guardate quante occasioni, avrete anche la possibilità di sceglierle, e soprattutto le abbiamo in pronta consegna qua per voi. Vi ricordo sempre il bonus permuta fino a 1.500 euro per la vostra auto che ha meno di 5 anni e meno di 100.000 chilometri. Contattateci al numero che vi diamo, scriveteci su WhatsApp che entro 24 ore vi ricontattiamo noi. Kilometro zero, vetture aziendali, insomma, valide, alternative al nuovo, con un risparmio fino a 5.000 euro. Sì, è vero, anche sulle piccole, soprattutto sulle piccole che abbiamo in pronta consegna. Bene, allora ricordiamo l'indirizzo. Corso Trieste 136, facile da raggiungere sia da Torino che dalle tangenziali. È stato un piacere, Francis. Piacere mio. Alla prossima, grazie a voi per l'ascolto e arrivederci come sempre alla prossima puntata. Alla prossima, grazie a voi per l'ascolto. Alla prossima, grazie a voi per l'ascolto. Alla prossima, grazie a voi per l'ascolto.